Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo di nuovo su Geometry Dash per cercare di completare Polargeist No sto scherzando Polargeist l'abbiamo già completato Base after base dobbiamo completare Oh l'ho detto giusto incredibile Allora speriamo di farcela sto giro perché se no faccio proprio schifo Allora raga Raga me lo ricordavo molto più veloce giuro Mi fa strano non so perché Mi sembra più lento del solito Ditemi se anche a voi vi sembra più lento del solito Forse sono stupido io Magari si è buggato qualcosa e va più lento Oh raga non male come prima con d'arrivo E niente ho preso il muro Che se salto sopra lì non ci... Vabbè ma sono stupido Vabbè Che se salto sopra lì non ci riesco dicevo Oh raga io oggi non so buttarci a sto gioco Vendetemi Perché vendetemi non lo so però vabbè Direi che ci possiamo vedere quando faccio il record A meno che non lo faccia sto tentativo Raga mi sento meno veloce di solito Cioè Di solito mi sembra più veloce Ok Ok raga La vincella Si prende proprio così la moneta Diretto Record Raga no vabbè Che morte del cavolo Che morte del cavolo raga Posso mettere un bip? Posso mettere un bip? Posso mettere un bel bip? Metto un bel bip No non metto un bel bip dai 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 Ho visto Ho visto Ho visto Dov'ho qua la mia casa Si Buona idea Che cacchio è successo? Ho lagato tantissima Vabbè raga ci vediamo quando ho complet Quando ho completo il livello Si ma allora però come se muoio la prima spina Ci vediamo quando ho completo il livello O quando faccio il mio record No niente Raga dopo un casino di tempo Come al solito Mi arrendo Al 77% Perché non sono riuscito a fare altro Dopo Ho fatto una roba come 44 tentativi Una roba del genere E non sono riuscito Quindi ragazzi Per il video di oggi è tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao